Tre settimane dopo la morte di Siniscia Mialovic e otto giorni dopo quella di Pelé, Gianluca Vialli è scomparso a soli 58 anni. Il campione italiano ha perso la battaglia contro il tumore al pancreas che combatteva da cinque anni. Diceva sempre che non voleva morire prima dei suoi genitori, perché il pensiero di far soffrire i suoi cari lo abbatteva più della malattia che invece lo stava consumando. Indossava un maglione sotto la camicia e andava in giro in modo che gli altri non si accorgessero del suo male. Il mondo del calcio piange la sua scomparsa, così come la sua unita e numerosa famiglia, perché è tanto grande il vuoto lasciato in campo e nella vita da questo grande campione, marito, padre e figlio esemplare che ha affrontato la malattia con grande dignità, senza mai nascondere le proprie paure. Si è spento in una clinica londinese dove nei giorni scorsi era stato ricoverato. Un colpo al cuore, la notizia della sua dipartita che è difficile da metabolizzare. A poche ore di distanza dal tragico epilogo, a parlare è stato proprio chi ha operato il grande Gianluca. Vediamo cosa ha dichiarato. Parliamo di una patologia che colpisce circa 14.000 pazienti all'anno e che, tra i nomi illustri, ha provocato il decesso di Pavarotti e di Steve Jobs. Il tumore al pancreas si localizza nella maggior parte dei casi sulla testa dell'organo, con una sopravvivenza a 5 anni di appena l'8%. Purtroppo, quando la diagnosi arriva, il tumore si trova in una fase ormai avanzata e si è espanso ad altri organi. Alessandro Zerbi, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Pancreatica dell'Humanitas di Milano, ha spiegato che il primo sintomo accusato da Vialli è stato littero. Oltre al littero, gli altri sintomi del tumore al pancreas sono una pancreatite o un diabete improvviso che di solito è sintomo di uno stadio precoce della malattia. Intervistato dal giornale, Zerbi ha ricordato che l'intervento di duodenocefalopancreasectomia era andato bene, invitando a prestare attenzione ai fattori di rischio del tumore al pancreas che sono il fumo, il sovrappeso, un'alimentazione ricca di grassi e povera di fibre e uno stile di vita sedentario. Oltre alla familiarità, due casi di parenti stretti che hanno avuto questo tumore. Va precisato che non esiste uno screening che è consigliabile per fare controlli periodici, come una risonanza magnetica all'anno, per tenere sotto controllo la situazione, precisando che solo nel 20-30% dei casi i pazienti se ne accorgono in tempo, in cui i casi si opta per l'asportazione del pancreas, oppure si procede con chemioterapia e radioterapia. Nel caso di Vialli, purtroppo si è verificata una recidiva che non gli ha lasciato scampo. Michele Reni, professore associato di oncologia dell'Università Vita e Salute e coordinatore dell'area oncologica IRCS San Raffaele di Milano, intervistato dall'agenzia Dire, ha precisato che l'unica terapia a bersaglio, che era stato dimostrato avesse un certo vantaggio nel controllare la malattia più a lungo, era il farmaco Olaparib, indicato per i pazienti BRCA mutati. Ma l'AIFA non ha concesso la rimborsabilità e quindi ci impedisce di usarlo. Il tumore del pancreas è una patologia in crescita che non fa distinzioni, anche se l'incidenza è maggiore nelle persone al di sopra dei 65 anni.